allora possiamo partire dunque allora oggi vediamo un altro esercizio molto simile a quello che avete appena fatto prima in realtà avremmo dovuto aggiungere un passo in più ma visti i problemi che ci sono stati rifacciamo una costruzione del grafo e basta ok dovevamo anche visitarlo ma lo lasciamo per le prossime volte dunque l'esercizio è tratto da un tema d'esame l'ho già messo su github quindi se volete clonarlo forcarlo e clonarlo per seguirmi potete farlo ovviamente c'è il testo dell'esame noi ne faremo solo un punto in realtà non siamo molto distanti da saperlo fare tutto è perché il punto 2 in realtà è un punto ricorsivo quindi dovremmo già essere in grado di farlo e del punto 1 ci mancherà appunto solo la visita il punto d insomma allora cosa chiedeva questo esame analizziamo innanzitutto il database si chiama artsmia che contiene informazioni su opere e mostre di un certo museo allora questo è il diagramma entità relazioni come vedete abbiamo la tabella objects che sono nient'altro che gli oggetti d'arte questi oggetti sono ovviamente stati fatti da un certo artista da un certo autore e questa tabella authorship è la tabella temporanea per mappare la relazione molti a molti tra oggetti e artisti quello che ci interessa noi però è questo ramo qua in questo esercizio ovvero questi oggetti sono stati esposti in varie mostre exhibitions e in particolare ovviamente un'esibizione può ospitare più oggetti e un oggetto può essere stato ospitato in più exhibition e quindi abbiamo una relazione molti a molti modellata da questa tabella exhibition objects ok dunque vediamo cosa chiede il testo il punto 1 punto 1 sarebbe il passo non passo l'esame ok quindi se non gira il punto 1 l'esame non è passato permettere all'utente di cliccare sul bottone analizza oggetti alla pressione del bottone creare un grafo che rappresenti gli oggetti e le loro e la loro compresenza nelle varie mostre il grafo dovrà essere pesato semplice e non orientato ok vi diciamo già come deve essere il grafo i vertici rappresentano tutti gli oggetti presenti nel db e un arco collega due oggetti se sono stati esposti contemporaneamente nella stessa exhibition e il peso dell'arco e quante volte sono stati mostrati insieme in una stessa exhibition è chiaro non so nella mostra a sono stati esposti l'oggetto 1 l'oggetto 2 gli stessi due oggetti sono anche mostrati nella mostra c quindi ci sarà un arco che collega i due oggetti con peso 2 se questi oggetti non sono mai stati in una stessa mostra non c'è l'arco ok e poi ci sarebbero il punto c ed che servono per visitare questo questo grafo ma lo vediamo lo vediamo più avanti domande su questa sul testo ok allora partiamo dalla cosa fondamentale del primo punto in generale dell'esame che è la query ok allora posto che aggiungere i vertici di per sé banale perché qui sono tutti gli oggetti quindi avremo una query molto semplice che recupera tutti gli oggetti e per ogni oggetto aggiunge un vertice la query complicata come avete visto prima penso è sull'aggiungere gli archi giusto allora ditemi se sbaglio prima dovreste aver visto varie alternative giusto tre alternative ok c'è sempre la più facile che però non sempre funziona in certi esami può funzionare in altri no logicamente funziona ma poi praticamente no vediamo allora io apro single pro voi aprite il tool che avete ok il db è presente nel progetto si chiama artsmia io l'ho già importato qui ci sono le varie tabelle e proviamo a pensare alla soluzione più semplice la soluzione più semplice di solito è faccio un doppio ciclo sui vertici giusto e controllo se questi due vertici ogni volta sono collegati con una query ok faccio fare più lavoro al db perché faccio tante tantissime query allora qui i due oggetti sono due oggetti e sono collegati se sono esposti in una stessa mostra quindi quale sarà la tabella che mi servirà qualunque sia la strategia che vorrò adottare dov'è questa informazione allora qui ho gli oggetti qui ho le mostre l'informazione qua nella tabella temporale no in questa tabella avrò tante coppie ve le faccio anche vedere di id e ora non riesco a fare zoom però vedete che ci sono varie coppie di id in cui il primo id è l'id di una mostra e il secondo l'id di un object questo vuol dire che nella mostra 2 posso ordinare nella mostra 2 c'era un solo oggetto il 44 ma nella mostra 3 ad esempio abbiamo vari oggetti ok quindi sicuramente da queste righe potrò dire che l'oggetto numero 8485 sarà sicuramente collegato con il 10421 perché erano almeno insieme nella mostra numero 3 dimmi no no ma aspettate database artsmia e questo qua avete usato questo dovete importarlo ovviamente drop table if exist artist create table artist no mi sembra corretto lo aggiunge all'altro database di prima allora potete provare forse non c'è potete provare a boh è strano perché io l'ho importato così potete provare a creare un nuovo schema chiamandolo artsmia e poi cercare di importarlo all'interno del è strano come cosa forse non c'è l'operazione create schema nel file .sql probabilmente eh vabbè piuttosto lo vediamo lo vediamo dopo con chi massimo seguite poi vediamo di risolvere il problema ok allora prima soluzione abbiamo capito che la tabella che ci serve è exhibition object quella temporanea e ovviamente se vogliamo vedere se due oggetti sono stati alla stessa mostra dovrò usare un trucchetto cioè fare il join della stessa tabella con se stessa ok quindi avrò from exhibition objects chiamiamola e o uno e exhibition objects e o due levo quindi levo beat e levo leatrici che mese la terme date nella clausola di where sicuramente avremo il join delle due tabelle e o uno punto exhibition id uguale a e o due punto exhibition id Perché vogliamo vedere quando due oggetti sono nella stessa, esattamente nella stessa Exhibition ID Exhibition e quindi con lo stesso Exhibition ID Ok? Questo sicuramente ci sarà Dopodiché suppongo di avere i due vertici tutte le volte, quindi i due oggetti end e o 1 punto object ID Sarà un certo oggetto, ora se lo facessimo in Java avremmo il punto interrogativo E ciclando sui vari oggetti riempiremo quel punto interrogativo Qui supponiamo di prendere i due oggetti di prima Che avevo scoperto essere collegati Quindi l'8485 e il 10421 Quindi 8.435 And il secondo oggetto per esempio 10.421 Ok? Quindi qui sto forzando ad avere delle righe che abbiano lo stesso Exhibition ID e due oggetti differenti Cosa devo fare? Contare quante volte questo accada Select Count Asterisco Questa query mi dà quante volte l'oggetto 8.435 e l'oggetto 10.421 Sono stati esposti nella stessa Exhibition Fatto per tutte le coppie Riempio tutti gli archi Proviamo a rannare la query Zero volte Strano Dovrebbe essere Uno Ah è 85 scusate Uno Eccolo lì Ok? Quindi il peso dell'arco Innanzitutto ci sarà un arco tra questi due oggetti E il suo peso Dovrà essere uno Ora prima di implementarlo cerchiamo di ragionare un attimo È molto facile questa query È molto facile anche il pattern da seguire in Java Ma chiediamoci quanti oggetti ci sono nella tabella Object Vediamo C'è scritto qua sotto Piccolo 85.174 Ok? Quanto ci ha messo questa bellissima query? 0,5 millisecondi Allora facciamo due calcoli Apriamo la calcolatrice 85.100 Approssimiamo pure Per 85.100 Sto facendo un doppio forno Considero tutte le coppie 7 miliardi erotti Di giri dei cicli Per 0,5 millisecondi Abbiamo Tanti millisecondi Proviamo a vedere Cosa vuol dire Questo numero Milliseconds Today Sono 41 giorni Virgola 9 Ok? Ora è un po' impensabile che noi stiamo lì Col vostro programma 41 giorni In laboratorio Vediamo se finisce oppure no Ok? Quindi Questo per dire che Ci sono stati degli esami In cui questa soluzione Effettivamente In dieci minuti Un quarto d'ora Portava Alla creazione del grafo E in quel caso Se dopo un quarto d'ora Arriva il risultato Lo consideriamo come valido Occhio però Perché se voi seguite Sempre questa strada E il DB è questo qua L'esame Non lo passate Ok? Quindi Prima magari Se volete proprio usare Questa soluzione Cercate di contare In modo un po' spannometrico Quanto dovrebbe In realtà Metterci Va bene Quindi questa soluzione qua Non la possiamo usare Cerchiamo di Allora far fare Più lavoro al DB Tutto in una volta Non fare miliardi di query Potremmo pensare a due operazioni Che avete già visto prima Una è fare Un po' di lavoro in Java E un po' col DB E l'altro è fare tutto col DB Allora potremmo pensare di Fissare un oggetto E l'altro E l'altro No Lasciarlo variabile E potremmo pensare che Dato un oggetto Fissato L'8485 Questa query Mi restituisca Tutti gli adiacenti A questo oggetto Con il relativo peso Allora io qui Presuppongo di ottenere EO2.object.id Ok? Dato questo Voglio tutti i suoi adiacenti Con il peso Cioè quante volte Sono stati mostrati insieme Ovviamente Se utilizzo un count Con un altro parametro Nella select Dovrò avere anche Una group by Group by EO2.object.id Va bene? Se io provo a lanciare Vedete che ho una serie Purtroppo non riesco a fare lo zoom Ho una serie Di Object.id Con tutti Peso 1 Casualmente Questi sono tutti gli oggetti Che sono stati Mostrati Insieme all'oggetto 8485 L'ultima riga Mi visualizza però ovviamente Anche l'oggetto stesso Ok? E non voglio questo A me basta sapere Gli altri Quindi posso pensare A questo controllo Filtro un po' i risultati Cioè Prendo solo Gli adiacenti Che hanno Id maggiore Ok? Tanto si partirà Mettiamo Dall'id 1 Prendo solo I maggiori Ok? In questo modo Riesco anche a eliminare Il caso in cui ci sia L'oggetto con se stesso Va bene Molto bello Qui Riduciamo di un for Giusto? Perché faremo Un unico for Su tutti I vertici E per ognuno Di questi oggetti Chiederemo al db La lista Dei suoi adiacenti E buttiamo dentro L'arco E quindi Qui si riduce Di molto Perché abbiamo Che questa qui Ci emette 0,6 millisecondi Quindi abbiamo Un unico ciclo for 87.100 Più o meno Per 0,6 millisecondi Abbiamo 52.000 millisecondi Che Saranno Sicuramente Non nell'ordine Dei giorni Ma penso Addirittura Dei secondi Esatto In 52 secondi Più o meno Ce la caviamo Quindi questo Funziona Andrebbe bene Già che siamo qua Però Secondo me Fare il passo dopo È quasi scontato Perché dobbiamo Comunque fare Questo for Quando il db Ci può dire tutto Noi vogliamo Avere delle coppie Oggetto 1 Oggetto 2 Numero di volte Che sono stati Visualizzati insieme Ok Oggetto 3 Oggetto 7 Numero di volte Che sono stati Visualizzati insieme Quindi qui Mi faccio dare Anche L'altro oggetto Non lo fisso più Sarà variabile E aggiungo qui Nella clausola Di group by Anche L'oggetto 1 Vedete che I passi da fare Per raggiungere Questa soluzione A partire da quella Precedente Sono pochi Run Ci mette un po' Di più Ma in In 600 millisecondi Io praticamente Ho tutto il grafo Coppie Oggetto 1 Oggetto 2 E il conteggio Che mi dà Direttamente Il peso Questa tipicamente È la difficoltà Della query Del punto 1 Può cambiare un po' Però Di solito Non è mai Molto più difficile Di questo Quindi se avete capito Questa Siete già abbastanza A buon punto L'importante però È tenere presente Che la strategia 1 Funziona Ma solo In alcuni casi Domande Mentre siete riusciti A creare il DB Eh ok Forse perché Lo esportandolo Da SQL Pro Non la mette In automatico Esatto Ok Grazie Poi lo correggerò Anche nel progetto Domande Sulla query Allora proviamo A trasportarla In Java Allora Nel progetto Base Avete già Ovviamente All'esame Una serie Di cose Avete Sicuramente L'interfaccia Grafica Quindi se io Non è questo Ma è questo Quindi se io Lancio Il main Avete L'interfaccia Grafica Che ovviamente Non fa niente Poi avete Il DAO Un DAO Con già alcuni metodi Fatti Ovviamente I più semplici In questo caso Avete già un metodo Per recuperare Tutti gli oggetti Dal DB Va bene Avete la classe DB Connect Con il connection pooling Quindi usate quella Non dovete preoccuparvene E in questo caso Avete anche Il test Del DAO Vabbè Non che sia importante E nel model Avete già anche Due classi Che modellano In questo caso Le entità Che ci servono Nel database L'oggetto E l'exhibition I due java bin Ok Questo è quello Che avete già Ovviamente Nulla vi vieta Di modificare Forse modificare Non è Non è consigliato Ma se volete Potete modificare E probabilmente Anzi sicuramente Vi serviranno Delle classi in più Però Avete già Una buona base Allora Nel package model Non c'è la classe model Andiamo a crearcela Quella ci andrà sempre Nuova classe Model Ottimo Allora Dove andrò a creare Il mio grafo Beh sicuramente Nella classe modello Allora Già il testo ve lo dice Il tipo di grafo Di solito ve lo dice sempre Andiamo a riprenderlo Il grafo dovrà essere pesato Semplice Non orientato Quindi sarà un simple Weighted graph Ok Io anche non me ricordo Mai a memoria Infatti ce l'ho qua Ma voi durante l'esame Potete accedere a tutto Alle slide Alla documentazione E quindi andate a vedere La tabellina dei grafi E prendete quello Corretto Allora Mi definisco il grafo Preferibilmente Come interfaccia E poi lo andrò a distanziare Con la classe Corretta Il grafo Ha come vertici Gli oggetti Modellati dalla classe Art object Che avete già Gli archi sono pesati E quindi Default Weighted Edge Chiamiamolo Graph Devo importarmi un po' di cose Import graph Ovviamente Nel progetto base Avete già anche tutte le librerie Import Benissimo Poi E qui viene Il punto Che cerchiamo di fare Al posto delle visite Avete visto prima Una serie di problemi Relativi ai vertici Agli oggetti Il professore Vi ha fatto vedere Un trucchetto Che di solito funzionava Il discorso è che spesso Ci serve Il riferimento Degli oggetti Che sono presenti Nel grafo Questo mi sembra chiaro Già solo per aggiungere Un arco Io prima aggiungo Tutti i vertici E poi per aggiungere L'arco Tra due vertici Devo avere Il riferimento A questi due vertici Allora il trucchetto Di ricreare Da zero Un oggetto Con solo l'id Abbiamo visto Che non funzionava E in più Anche funzionasse È un trucchetto Un po' Pericoloso Perché se L'hash code E l'equals Sono implementati male Ad esempio Non funziona niente Ok Quindi Si usa Ma solo se si sa bene Quello che si fa Qual è l'alternativa? L'alternativa è Quando creo un oggetto Mi assicuro Di crearlo Una volta sola E quando mi serve Di nuovo Ho un posto Dove andarlo a recuperare Già creato Allora Sicuramente possiamo Avere una lista Però Poi quando mi serve Devo scorrere La lista Per andarmelo a recuperare E quindi Si Posso aver scelto La strategia Migliore Ma poi il programma Non finisce Perché sto Scorrendo Sette miliardi di volte La lista Ok Quindi quello che si fa È tipicamente usare Una mappa Ha un nome particolare La chiamiamo Identity map E vi consiglio Caldamente Sempre di utilizzarla Ed è semplicemente Una Hash map Ok Che io uso Per Salvarmi Gli oggetti Che ho Recuperato Dal db E creato Quindi Prima di Andare a creare Un nuovo oggetto Vado sempre a vedere Se c'è già nella mappa Se c'è già nella mappa Utilizzo quella Altrimenti ne creo uno nuovo E lo aggiungo nella mappa Ma vedrete che è più semplice di quanto Si possa credere Quindi Io suppongo di avere Al posto di una lista Una mappa E qui è molto facile capire Come impostare la mappa Perché La chiave sarà di solito La chiave primaria della tabella Qui abbiamo gli art object Che hanno un id E questa sarà la loro chiave Quindi Integer Come chiave E art object Come valore Id map Poi Devo importarlo Ovviamente Nel costruttore Di model Andrò A istanziare Questa mappa Che all'inizio Ovviamente Vuota Id map Uguale New Hash map Integer Art object E poi ovviamente Creo anche il grafo Graph Uguale New Simple Weighted Graph E come parametro Dobbiamo passargli La classe Default Weighted Edge Punto Class Ok Dopodiché Avremo sicuramente Un metodo Crea Grafo Questo andrà poi Agganciato al controllore In particolare Al bottone Analizza oggetti Ad esempio Però sicuramente Andrà fatto Allora Vabbè La creazione Del grafo Segue Un pattern Ben preciso Aggiungo I vertici Aggiungo Gli archi Allora Per aggiungere I vertici E gli archi Mi serve sicuramente Un riferimento Al DAO Artsmia Come si chiama DAO DAO Uguale New Arts Mia DAO C'è un errore qua No Non si chiama così Arts Mia In questo caso C'era già Nel progetto base Lo vado semplicemente A creare Dopodiché Andiamo a vedere Cosa Mi offre Già Questo Artsmia DAO La lista Di tutti gli oggetti Qui però Vogliamo fare Un passo in più Vogliamo usare La mappa L'identity map Vedete che qua C'è una new Io questa new Non la voglio fare sempre La voglio fare Solo se questo oggetto Non esiste ancora Allora Il modo di farlo È di solito Come vedete qui Devo modificare Il progetto base Perché altrimenti Non me la cavo E passare Questa mappa Ad ogni metodo Del DAO Art object Si Id map Devo importare tutto Object Ok E poi E poi Prima di fare La new Vado a chiedermi Se nella mappa Per caso C'è già Questo oggetto O Ribaltiamolo Se nella mappa Non c'è Lo creo Quindi se Idmap Punto Get Uso l'id Come chiave Se è uguale a nullo Vuol dire che Nella mappa Non c'è Allora lo devo creare Sposto tutto Più in là Lo creo E lo metto Nella mappa Perché io così La prossima volta Non andrò più A ricrearlo Idmap Punto Put Art Obj Punto Get Id Art Obj Poi di questi Risultati Posso farne Quello che voglio Se mi serve Che questo metodo Ritorni anche Una lista Non so per quale motivo Ma posso anche Aggiungerlo Alla mia lista Result Ok Altrimenti O non faccio niente Ma se mi serve La lista Result Non aggiungo Un nuovo oggetto Ma aggiungo L'oggetto Che recupero Dalla mappa E' chiaro Questo pattern A tutti i metodi Del DAO Ovviamente Che creano Oggetti Di questo tipo Art Object In questo caso Passo L'identity Map E se questo oggetto E' già stato creato Non lo creo più Ok torno nel model E quindi Posso semplicemente Richiamare Il metodo Del DAO DAO Punto List Objects E gli passo La mia mappa Visto che io salvo Tutto nella mappa Non mi serve Recuperare la lista Che questo metodo Ritorna E quindi lo richiamo Così Semplicemente Gli passo la mia mappa Che all'inizio è vuota E questo metodo Me la riempirà Ok Adesso Aggiungo i vertici Al grafo Una volta che ho I vertici Posso usare La classe Graphs Punto Add All Di tutti i vertici Devo specificargli Il grafo Graph E devo specificargli Una collection Di Vertici ID Map Punto Velius Avete avuto una lista Gli potevate passare Direttamente la lista Qui abbiamo una mappa E quindi dobbiamo Prendere i valori Della mappa Aggiunti i vertici Aggiungo gli archi Allora Abbiamo detto Meglio utilizzare la Versione 3 Quella Che fa fare tutto Al db Facendo fare tutto Al db Abbiamo bisogno Di una classe in più Banalmente Per salvarci Da qualche parte Quella lunga lista Di triple Oggetto 1 Oggetto 2 Peso Quindi mi servirà Sicuramente una classe in più Cosa che non serviva Con la prima Strategia La prima strategia Ritornava direttamente Un numero solo Il peso Quindi nel package model Vabbè qui Il test Dao non va più Perché abbiamo Cambiato il dao Ma chi se ne frega Nel package model Mi vado a creare Una classe Temporanea Chiamiamola Adiacenza Non lo so Adiacenza La classe adiacenza Avrà Due id E un peso Quindi Private Int Oggetto 1 Private Int Oggetto 2 Peso È un bin Anche questo Quindi creiamoci Il costruttore Innanzitutto Perché non mi vede peso Source Vabbè lo aggiungo io Ovviamente anche con il peso Uguale peso E anche i vari Getter Innsetter Source Getter Sett Bene E' chiaro perché ci serve questa classe? Per recuperare i dati che la query ci ritorna In sostanza Per recuperare queste triple qui Quindi nel DAO Suppongo di avere Un metodo Public Che mi ritorni Una lista di adiacenze Adiacenza List Adiacenze Allora qui non Ah sì Qui sì Qui no No Scusate Non mi serve la mappa Perché io Ho supposto che Adiacenze Sia basata solo sugli id Ok? Quindi non mi serve Non creerò degli oggetti Object Art object Qui Mi baso tutti sugli id Quindi in questo caso Penso di non aver bisogno Della mappa Se poi ci servirà L'aggiungeremo Dimmi Qua? No Perché ritorna a result Che poi non uso Però Potrebbe anche essere void Per come ho impostato il programma Ma non volevo stravolgere il metodo Solo per quello Allora Abbiamo il solito Devo importare adiacenza Abbiamo il solito pattern In cui la prima cosa È definirci La string SQL Che vado a prendere Da SQL Pro Copio Incollo No Tasto destro Copy Incollo Qui bisogna fare attenzione A sistemare bene La query Perché uno degli errori più comuni L'avrete già capito È Lasciare uno slescenne Non mettere lo spazio Qui al fondo Eccetera Quindi Mi Premuro di Eliminare tutti gli slescenne E lasciare uno spazio Al fondo di ogni riga Se vado a capo Punto e virgola Dopodiché Do anche dei nomi Un po' più furbi A questi campi No non posso chiamarlo così Chiamiamolo O1 S O2 S CNT Per poi recuperarli con le varie get Del result set Bene Bene Prendo la connection Ho la classe per farlo Db Connect Punto Get connection Mi creo già La lista di adiacenze Che all'inizio sarà vuota Adj Facciamo una linked list Fa lo stesso Non è quello che cambia in questo caso Devo importare E poi ho il mio bel try Catch Sempre uguale In cui c'è l'eccezione SQL exception Se c'è questa eccezione La stampo E ritorno Null Ad esempio All'interno Lo copio Almeno facciamo un po' più veloce Mi creo il prepare statement Ed eseguo la query Dopodiché Scorro Il result set Va bene E qui per ogni riga Che conterrà tre valori Creo una nuova diacenza E la aggiungo Alla mia lista Quindi Adj.add New A diacenza D Res.getint L'ho chiamato Nella query O1 Virgola Res.getint O2 Virgola Res.getint C-N-T Punto virgola Vedete che non ho creato nessun oggetto object Quindi non mi serve l'identity map Chiudo la connessione E ritorno A dj Va bene? E' fatto questo metodo Praticamente tutto Per il grafo Perché Se torno di là Posso cambiare? Se torno di qua Mi vado a recuperare Questa lista di Adjacenze Dao Punto List Adjacenze Andiamo a importare list Scorro queste adiacenze A In A dj E per ogni coppia Creo l'arco Ma ho già tutto Ho già i due id E ho già il peso Ecco però che qui mi serve L'identity map Perché io Nella diacenza Ho salvato l'id Non l'oggetto Quindi devo avere Sicuramente Il modo di Recuperare Sorgente Destinazione Di questa adiacenza Allora prima col professore Qui avreste creato Un nuovo oggetto Art object Solo con l'id E tutti gli altri Campi Anund Ora invece abbiamo Una mappa Possiamo recuperare L'unico oggetto Siamo sicuri che abbiamo Creato con tal id Quindi id Map Punto Get A Punto Get O1 Qui Non è neanche il caso Di mettere tanti controlli Perché siamo sicuri Che questo oggetto ci sia A meno di Magari ve l'ho smentito Ma Recupero anche La destinazione Id Map Punto Get A Punto Get O2 Adesso Posso Andare ad aggiungermi Sempre con la Classe graphs Se non sbaglio Ad Edge Dobbiamo dirgli Il grafo La sorgente La destinazione E il peso Che ce l'abbiamo In A Punto Get Peso Allora noi siamo sicuri Che questo oggetto Source E questo oggetto Dest Sono gli stessi Che abbiamo prima Messo dentro Il grafo Ovviamente ho usato L'identity map Qui perché ho definito La mia classe Adiacenza A lavorare Con gli D Va bene Potevo anche usare Un altro approccio Cioè Potevo Nella classe Adiacenza Al posto Per vedere Per vedere che tutto funzioni Una bella stampa Grafo Creato Con magari Stampiamo Graf Punto Vertex Set Punto Size Vediamo Vediamo quanti vertici Abbiamo aggiunto E anche Quanti Edge Quindi Edge set Punto Size Più Archi Domande Ora Ora viene Il bello Perché ovviamente Dobbiamo provarlo Lo proviamo Con una classe Test Model Poi se abbiamo Tempo Lo colleghiamo Al controllore Altrimenti pazienza Lo faccio Poi io Quindi mi Crea una classe Nel package Model Test Model Con il Main Ok Definisco Il metodo Run All'interno del quale Vado a creare un'istanza Del mio modello Creo il grafo E direttamente Quella crea grafo Dovrebbe stamparmi Grafo creato Con 85.000 E passa Vertici Eccetera Creo il main Test Model Main Punto Run Proviamo Ovviamente Ci saranno Degli errori Eh Ti pareva Add edge No Non è qua Allora Vediamo Null Pointer Vediamo un po' Di Fatemi solo fare Questa prova Proviamo a catturare L'eccezione Vedere se sono Tutti così Oppure No Allora Allora sì C'è C'è qualche problema Nel DB Nel senso che Mi sono già accorto Mentre lo provavo Che Hanno cancellato Qualche riga Da una tabella Ed è rimasto Il riferimento Nell'altra tabella E quindi Ci sono degli oggetti Nella classe Ci sono degli D Nella tabella Exhibition Object Che però in realtà Non corrispondono più a nessun oggetto Perché l'oggetto è stato eliminato Ma Io ho catturato Questa eccezione Qui Quindi se per caso Questa Add edge Non va a buon fine Non faccio niente Vado avanti E provo quella prossima Al di là di questa cosa Che è un problema Relativo al DB Non al programma Mi dice Grafo creato Si vede un po' poco Ma 85.581 vertici E 3 3 Milioni No 399.800 Archie Domande Proviamo a collegarlo Al controller Ora che siamo Abbastanza tranquilli Che funzioni Beh naturalmente Se si verifica Cioè cerchiamo Di arrivare all'esame Con il DB pulito Cioè Prima dell'esame Ricontrolliamo Sempre il DB Affinché questi errori Non capitino Solo per Allora Andiamo nel Main Qui abbiamo già Preso il controller Dobbiamo crearci Il modello Qui nel main Off Model Model Importiamo E poi facciamo Controller Punto Set Model Model Non ce l'ho ancora Nel controller Lo vado a creare E qua Dovrò avere Un riferimento Al mio modello Ok E nel set Model Dis Punto Model Uguale Model Per il resto Il controller Era già abbastanza Riempito Già nel progetto Base Ovviamente Dovete riempire Solamente L'interno Dei metodi Associati Ai vari Bottoni Tipo Qui Analizza oggetti Qui ci sarà Il Dis Punto Model Punto Crea Grafo Va bene E poi Di solito In txt Result Per vedere Che tutto Funzioni Punto Append Text Scusate Scriviamo Un messaggio Ad esempio Grafo Creato E se vogliamo Aggiungere Anche Quanti Vertici E quanti Archi Abbiamo Creato Dobbiamo Farcelo Dire Dal Modello Quindi Più Model Punto Qui non ho Ancora Nessun Metodo Che mi Dica Le varie Grandezze Ma Suppongo Di averlo Get Vertex Size Vertici E Model Punto Get Edge Size Più Archi Ovviamente Devo Crearmi Questi Metodi Che saranno Semplicemente La restituzione Delle relative Grandezze Quindi Graph Vertex Set Punto Size Visto che Graph È privato Nella classe Modello Non è una String Ma è Un Integro Int E Poi Avremo Anche Edge Size Edge Set Size Va bene Proviamo La versione Con il Controller Qui Non ho salvato Il Modello Probabilmente No Il Controller Esatto Devo Salvarlo E Lancio Da qui Il Programma Clicco Clicco su Analizza Oggetti E Ringraziando Tutto Funziona In Circa Cinque Secondi Che va Più Che bene Ovviamente Il calcolo Che abbiamo Fatto Prima Era Sulla Singola Query Poi Dobbiamo Aggiungerci Il ciclo For La creazione Degli oggetti Eccetera Quindi La query Ci impiegava Circa un Secondo Più ci sono Altri 3 4 Secondi Dati Dall'esecuzione Del programma Vi assicuro L'ho anche provato Con La strategia 1 Non ce n'è Ma addirittura Con la strategia 2 Abbiamo visto Che dovrebbe Impiegarci Circa Un minuto In effetti Con l'identity Map In un minuto Due Arrivava A conclusione Quindi perfetto Ho provato Anche a fare La versione Senza Identity Map Ma con La lista Cioè Ogni volta Andare A recuperare L'oggetto Dalla lista Anziché Dalla mappa Non c'era Verso Non terminava Non sono stato lì Due giorni Ma In un quarto D'ora 20 minuti Non terminava E quindi Anche lì Se usiamo La mappa E la strategia 3 Siamo sicuri Che funziona Sempre Negli altri Casi Bisogna Fare un po' Attenzione Se non ci sono domande Per me è tutto Grazie Buona serata Pomeriggio Grazie a tutti Grazie a tutti